Ciao a tutti! Nell'esercizio di oggi lavoreremo con le fotografie. Le scomporremo distribuendo i loro livelli nello spazio 3D e poi le inquadreremo con una camera in movimento, in modo da ottenere appunto un effetto tridimensionale. Bene, vediamo quello che dovremo realizzare. Benissimo, come avete visto, l'animazione della camera sui vari livelli distribuiti nello spazio 3D dà l'idea appunto di uno spazio tridimensionale. Come vedete in questa foto, il soggetto in primo piano sulla roccia sembra più vicino a noi rispetto agli altri livelli sullo sfondo e la stessa cosa succede anche nelle altre fotografie. In questo caso il windsurf è separato dalle onde in primo piano e dal mare sullo sfondo e nel terzo caso il personaggio sulla roccia è separato dallo sfondo e in più in questa ultima fotografia inseriremo anche un testo e il suo inglobamento lo renderemo più realistico grazie alla proiezione della sua ombra sulla parte della fotografia come si vede bene qui. Benissimo, incominciamo subito. Innanzitutto importiamo correttamente le fotografie, quindi doppio clic nella finestra di progetto, navighiamo fino alla cartella foto 3D, selezioniamo le tre fotografie, apriamo le opzioni di importazione e le importiamo sotto forma di composizione in modo che i livelli interni alle fotografie rimangano separati e in questo caso useremo la seconda opzione, questa Composition. Benissimo, importiamo e oltre alle tre foto importiamo anche un effetto luce che useremo come transizione per passare da una foto all'altra, quindi doppio clic di nuovo e importiamo anche questo breve filmato transizione luce, quindi lo selezioniamo e lo importiamo. Benissimo, incominciamo dalla prima foto che è Monument Valley, quindi doppio clic sulla composizione Monument Valley e prima di cominciare sinceriamoci che sia della durata giusta e in questo caso la durata voglio che sia di 8 secondi, quindi per impostarla andiamo in Composition, Composition Settings e qui in Duration, se c'è bisogno correggete in 8 secondi e poi diamo l'ok. Bene, prima di cominciare vediamo come è scomposta questa fotografia e per farlo spegniamo i tre livelli disattivando i tre occhiolini qui a sinistra e riaccendiamoli uno alla volta. Il livello Cowboy contiene la porzione della foto con la roccia e il cowboy a cavallo sopra, il secondo livello Roccia contiene soltanto questa grande roccia in secondo piano e il livello Sfondo contiene tutto il resto, il cielo e le rocce in lontananza. Benissimo, ora per poter distribuire questi tre livelli a varie distanze nello spazio dobbiamo accendere il loro pulsante del 3D che è questo qui rappresentato dal cubetto, quindi accendiamoli subito. E prima ancora di distribuirli aggiungiamo anche la camera che l'inquadra, quindi andiamo in Layer, New Camera. In questo caso usiamo una camera a un nodo, cioè quella senza il punto di interesse, quindi nel menu Type scegliamo One Node Camera e come obiettivo nel menu Preset ne scegliamo uno abbastanza largo, direi in questo caso di usare un 28 mm. Disattiviamo momentaneamente Enable Depth of Fill che è responsabile della messa a fuoco della camera e lo accenderemo più tardi quando appunto lavoreremo sulla messa a fuoco. E diamo l'ok. Bene, ora direi di attivare un secondo monitor che ci aiuterà a distribuire facilmente i livelli in profondità. Quindi in questo menu attiviamo due viste. Nel monitor di destra lasciamo il punto di vista Active Camera, cioè il punto di vista della camera e nel monitor di sinistra lasciamo il punto di vista Top dall'alto. Se per caso avete un altro punto di vista, da questo menu qua scegliete Top. Benissimo. Al momento tutti i tre livelli si trovano a questa distanza. Ora noi lasciamo il livello più vicino, cioè il cowboy lì dov'è, e gli altri due, la roccia e lo sfondo, li mettiamo più lontani, in modo però che si vedano come li vediamo adesso. Quindi direi innanzitutto di disattivare momentaneamente lo sfondo in modo che ci possiamo concentrare sulla roccia in secondo piano. La selezioniamo, attiviamo la Position e la spostiamo un poco più avanti agendo sulla posizione Z. Io direi di portarla circa a questa distanza, mille pixel più o meno. Come vedete adesso questo livello appare più piccolo di come lo vedevo prima, perché entra in gioco appunto la prospettiva tridimensionale. Ma io voglio, come dicevo prima, vedere questo livello come lo vedevo all'origine, per cui per compensare dobbiamo aumentargli la scala. Quindi attivo la scala e l'aumento in modo tale che lo vedo esattamente come lo vedevo prima, quindi di questa quantità qui. E quindi il cowboy e la roccia in secondo piano li vedo come li vedevo prima. Ma tra loro due adesso c'è una distanza di mille pixel. Attiviamo adesso il terzo livello, lo sfondo, attiviamo la posizione e con la posizione Z lo andiamo a mettere ancora più lontano, più o meno tra i 3 e i 4 mila pixel. E come prima lo riscaldiamo in modo tale che lo si da come lo si vedeva all'origine. Quindi aumento la scala e mi fermo a questa grandezza qua. Adesso creeremo un movimento di camera in modo tale che la camera parte da un punto vicino al cowboy e indietreggia e torna a questa posizione finale qua. Quindi in questo caso direi di cominciare dal fissare la posizione della camera nel momento finale. Allora prendo il cursore, vado direttamente a 8 secondi, metto in evidenza la posizione della camera e accendiamo il suo orologio appunto in modo da fissare questa posizione finale. Benissimo. Adesso riportiamo il cursore al tempo zero e ci mettiamo nel punto di partenza, cioè vicino al cowboy. Quindi cominciamo ad avvicinarci con la posizione Z più o meno di questa quantità qui, ci spostiamo un poco più a destra con la position X e anche un poco più in basso in modo da portare il cowboy al centro dell'inquadratura. Direi anche di selezionare entrambi i keyframe e ammorbidirli con l'F9 e facciamo una rapida preview per vedere se il risultato finale ci va bene. Benissimo. Direi che va bene. Adesso attiviamo la profondità di campo e durante il movimento di camera spostiamo la messa a fuoco dal cowboy allo sfondo. Quindi col cursore torniamo al tempo zero. Per attivare le proprietà della camera usiamo la scrocetoia AA, quindi AA. Attiviamo la profondità di campo accendendo la depth of field, quindi clicco qui e si imposta su ON e a questo punto dobbiamo mettere il piano della messa a fuoco in corrispondenza del cowboy che è questo livello qui. Quindi agisco sulla focus distance, come vedete si muove quel piano rosa che è quello della messa a fuoco e lo vado a spostare precisamente in corrispondenza del cowboy che è appunto questo livello qui. Bene, ora per far sì che lo sfondo sfuochi un po' dobbiamo aumentare un poco l'apertura. Proviamo. Io direi di arrivare a un valore intorno ai 50-60. Come vedete ora la roccia in secondo piano è più sfocata. Bene, adesso accendiamo focus distance in modo da memorizzare la messa a fuoco sul cowboy al tempo zero. Prendiamo il cursore, avanziamo fino a 8 e in questo momento invece vorrei che a fuoco fosse la roccia in secondo piano. Quindi leggiamo di nuovo su focus distance e la portiamo sul secondo livello all'incirca qua. Come vedete la roccia adesso è perfettamente a fuoco, il cowboy leggermente sfocato e anche lo sfondo è sfocato. Facciamo in modo che anche questi due keyframe siano ammorbiditi, quindi li seleziono F9 e facciamo ancora una preview. Perfetto, passiamo adesso alla seconda foto. Quindi nella finestra progetto facciamo doppio clic su windsurf e anche questa composizione voglio che abbia una durata di 8 secondi. Quindi andiamo in composition settings e se c'è bisogno accorciamo a 8 secondi e diamo l'ok. Accendiamo i pulsanti del 3d e aggiungiamo subito la camera che li inquadra. Quindi in layer, new camera. In questo caso voglio una camera a due nodi perché oltre a fare un carrello all'indietro faremo anche un'inquadratura laterale che poi si raddrizza. Quindi in questo caso è più adatta appunto una camera a due nodi. Come obiettivo usiamo un obiettivo in questo caso più stretto di quello standard, quindi nel menu preset attiviamo ad esempio 80 mm e se è acceso spegniamo il bottone enable depth of field e lo riaccenderemo poi più tardi quando faremo la messa a fuoco e diamo l'ok. Benissimo, adesso distribuiamo i vari livelli. Direi di lasciare il livello windsurf lì dov'è, allontaniamo il mare sullo sfondo e i due livelli di onda invece li avviciniamo verso di noi. Quindi disattiviamo momentaneamente i due livelli di onde, lasciamo il windsurf dov'è, concentriamoci sull'ultimo livello cioè il mare. Quindi attivo la sua position e questa volta lo sposto più lontano ma non troppo, quindi direi che circa 100-200 pixel possano bastare. Ovviamente per compensare il fatto che si veda più piccolo devo aumentare la scala, quindi lo ringrandiamo all'incirca così e ora le onde in primo piano. Incominciamo dall'onda in secondo piano che è questa qui, quella più vicina al windsurf, la seleziono, attivo la position e la vicino alla camera tra i 700-800 pixel. In questo caso come vedete l'onda la vedo più grande di come la vedevo all'inizio, quindi attivo la scala e appunto la riduco un po' in modo che rientri nell'inquadratura come prima. Benissimo, adesso l'onda in primo piano. La riaccendo, attivo la position, la vicino ancora di più alla camera, intorno ai 1200 pixel e di nuovo devo rimpicciolirla, più o meno così, in modo che la vedo grande come la vedevo all'origine. Bene, ora fissiamo subito la posizione finale della camera che è quella dove si trova in questo momento, quindi prendo il cursore del tempo, lo porto in fondo alla timeline, attivo la camera, apro le sue proprietà e accendo l'orologio di position e anche quello del punto di interesse, in modo anche da fissare la direzione dell'inquadratura finale. Bene, adesso torno al tempo zero con il cursore e mi avvicino molto al windsurf e anche mi sposto sulla destra, quindi agisco sulla posizione z all'incirca a questa distanza qui, mi sposto anche a destra con la position z, più o meno così, ma come vedete l'inquadratura non è ben bilanciata. Dobbiamo spostare il punto di interesse in modo che il windsurf si trovi bene al centro dell'inquadratura, quindi nel monitor di sinistra attivo il punto di vista left e spostiamo il punto di interesse un poco più in alto in modo da aggiustare l'inquadratura, quindi agisco sul punto di interesse y e così facendo il windsurf rientra al centro dell'inquadratura e mi fermerei qua. Torniamo subito con il punto di vista dall'alto e prima di fare la preview cercherei anche di fare in modo che il windsurf si trovi sempre perpendicolare alla camera, in modo che soprattutto all'inizio non sia distorto dall'inquadratura laterale della camera, cioè se attivo la rotazione del windsurf vorrei che fosse ruotato verticalmente in questo modo, appunto come dicevo da trovarsi perpendicolare alla camera e quindi non apparire distorto. Per fare ciò potrei animare la sua y rotation in modo che all'inizio si trovi con questa rotazione e alla fine con rotazione zero, oppure potrei attivare la funzione auto orient che fa sì che un livello si orienti automaticamente verso la camera e in questo caso faremo appunto così, quindi riazzeriamo la rotazione y, selezioniamo il windsurf, andiamo in layer, transform, auto orient e come dicevo appunto nel caso di livelli 3d l'auto orient ha una terza opzione che è orient towards camera, cioè il livello si orienta automaticamente sempre rivolto verso la camera, quindi proviamo attivarlo, diamo l'ok e come vedete adesso automaticamente il livello windsurf si è messo in direzione della camera, perfettamente perpendicolare alla camera e a mano a mano che la camera si sposta notate che il windsurf è sempre perpendicolare ad essa. Benissimo, adesso selezioniamo tutti e quattro keyframe dell'animazione della camera e li ammorbidiamo un po' cliccando F9. Benissimo, ora facciamo la preview. Ottimo, adesso aggiustiamo la messa a fuoco della camera e voglio che sia sempre a fuoco il windsurf, quindi torniamo al tempo zero, attiviamo le camera options, accendiamo il pulsante depth of field e portiamo immediatamente la focus distance sul windsurf, quindi in questo caso devo portarla indietro e deve trovarsi esattamente qui in corrispondenza del windsurf. aumentiamo l'apertura in modo che lo sfondo e le onde in primo piano sfocano di più, tra i 70 e gli 80, come vedete le onde in primo piano sono molto sfocate e accendiamo l'orologio di focus distance per fissare la messa a fuoco sul windsurf. Adesso portiamo il cursore a 8 secondi e riportiamo di nuovo la focus distance sul windsurf, quindi di nuovo qui. Perfetto, ammorbidiamo anche questi due keyframe, quindi F9 e facciamo un'ultima preview. perfetto, e ora la terza fotografia, Grand Canyon, quindi doppio clic su Grand Canyon, in questo caso voglio che la composizione duri un po' di più, facciamo 14 secondi, quindi vado in composition, composition settings e aggiusto la durata a 14, accendiamo subito i pulsanti del 3D e aggiungiamo la camera che fa l'inquadratura, quindi layer new camera. Anche in questo caso voglio una camera a due nodi con un obiettivo molto largo, quindi dal preset scelgo in questo caso un 24 mm e disattiviamo enable depth of field. Benissimo, allora lasciamo l'uomo in piedi sulla roccia lì dove si trova e lo sperone roccioso sotto i suoi piedi facciamo sì che appoggi alla base dei piedi dell'uomo e che sia ruotato verso di noi, cioè che ci venga incontro. Benissimo, quindi disattiviamo momentaneamente la mongolfiera e lo sfondo e concentriamoci solo su quei due livelli. L'uomo lo lasciamo lì dove è, abbiamo detto, e per vedere la rotazione dello sperone roccioso verso di noi direi di farci aiutare dal punto di vista da sinistra, quindi nel monitor di qua attiviamo il punto di vista left. Quindi l'uomo, vi han detto, rimane lì dove è, lo sperone della roccia lo ruotiamo verso di noi, ma prima facciamo sì che il suo anchor point si trovi proprio sotto i piedi dell'uomo. Allora in questo caso prendiamo lo strumento per spostare gli anchor point, cioè questo, avviciniamo un poco di più l'inquadratura, clicchiamo sulla freccia verde, aspettiamo che compaia la lettera y al posto del puntatore e trasciniamo l'anchor point più in basso, io direi più o meno qui. Poi clicchiamo sulla freccia rossa, la x, e la spostiamo più a sinistra, in modo che quando ruoteremo lo sperone roccioso rimanga comunque appoggiato al piede della figura qui. Quindi adesso attiviamo la rotazione dello sperone roccia e la ruotiamo sull'asse x. E in questo caso direi che intorno ai 45 gradi può essere sufficiente. Quindi lo sperone roccioso in questa zona è vicino alla camera e verso la punta si trova sotto il piede dell'uomo e quindi inclinato in questo modo qua. Benissimo. Adesso posizioniamo gli altri due livelli. Cominciamo dalla mongolfiera, riaccendiamola, attivo la position, la spostiamo un poco più avanti a questa distanza qui. E in questo caso per vederla come la vedevamo prima dobbiamo ingrandirla. Quindi attivo la scala e la riporto a questa grandezza qui. Benissimo. Adesso lo sfondo, attivo la position, lo sposto più avanti ancora della mongolfiera, oltre 4000 pixel, più o meno a questa distanza qua, e lo riscalo in modo che riempia di nuovo l'inquadratura. Bene. Ora animiamo la mongolfiera e facciamo sì che salga lentamente. Innanzitutto, come vedete, i miei quattro livelli della fotografia sono ancora lunghi 10 secondi, perché dopo aver allungato la composizione da 10 a 14 secondi, mi ero dimenticato appunto di allungare i livelli. Quindi li seleziono e li trimmo fino in fondo alla composizione. Benissimo. Dicevo, adesso animiamo la posizione della mongolfiera. Quindi la seleziono e al tempo zero fisso la sua posizione iniziale lì dove si trova. Benissimo. Adesso porto il cursore fino in fondo alla composizione e sposto la mongolfiera un poco più in alto. Io direi più o meno a questa altezza qui. E magari la spostiamo anche un poco più a sinistra con la posizione X. Così direi che è sufficiente. E adesso, prima di animare la camera, aggiungiamo qui in primo piano sulla roccia i due titoli motion e graphics. Quindi prendiamo lo strumento testo, scriviamo motion. Per vedere il livello di testo lo sposto su in cima a tutti i livelli e accendo subito il pulsante del 3D. Benissimo. Subito scompara la vista perché, come potete vedere dal punto di vista da sinistra, il titolo al momento si trova al di sotto dello sperone di roccia. Quindi con la sua posizione verticale lo spostiamo più in alto e ora andiamo a appoggiarlo la roccia in questa posizione qui. Quindi innanzitutto lo porto un po' più avanti verso la camera. Quindi agisco sulla posizione Z fino qui e adesso lo abbasso con la posizione Y finché non interseca la roccia. E quindi mi fermerei più o meno qui. Ora lo sposto anche leggermente più a destra e lo ingrandisco un poco con la scala. E magari ancora un poco più a destra. Benissimo. Adesso la seconda scritta graphics un poco più in basso. Quindi per fare prima duplico questo livello, lo seleziono CTRL D, sul duplicato faccio doppio clic e riscrivo graphics. Attivo la position, lo avvicino ulteriormente alla camera con la posizione Z all'incirca qui e adesso lo abbasso di nuovo finché non interseca la roccia. E adesso devo proiettare l'ombra di queste due scritte sulla roccia. Quindi ho bisogno di un oggetto luce. Allora vado nel menu Layer, New Light. Usiamo una luce di tipo Point. Quindi dal Light Type impostiamo Point. Lasciamo l'intensità al 100 e attiviamo già Cast Shadow, cioè la proiezione delle ombre. La Shadow Darkness la aggiustiamo più tardi. E diamo l'OK. Bene. Adesso che la luce è presente in scena, devo far sì che tutti quanti i livelli in scena non vengano illuminati dalla luce. Cioè devo far sì che si vedano come si vedevano all'origine. E quindi devo disattivare il loro pulsante Accetta luce. E nello stesso tempo devo attivare ai due livelli di testo il pulsante che attiva la proiezione delle loro ombre. Quindi selezioniamo tutti i livelli della scena, mettiamo in evidenza le proprietà del 3D con la scorciatoia AA e a tutti quanti disattiviamo Accetta luci, Accept lights. Quindi lo mettiamo su Off. E come vedete tutti i livelli ora li vedo come li vedevo prima che ci fosse la luce. Benissimo. Adesso disattivo tutti i livelli e riseleziono soltanto i due livelli di testo e a loro due attivo il pulsante Cast Shadow. Cioè da Off lo metto su On. E adesso, come vedete, i due livelli di testo proiettano la loro ombra sopra la roccia. Bene, in questo caso vogliamo che l'ombra sia scura come l'ombra dell'uomo sulla roccia. Quindi torniamo sulla luce, apriamo le sue opzioni e aumentiamo la Shadow Darkness. In questo caso direi che un valore tra gli 80 e 90 è sufficiente. E ora spostiamo la luce in modo che la direzione dell'ombra punti verso sinistra. Quindi attivo la posizione della luce e agisco sulla posizione X. Quindi spostandomi a destra ovviamente l'ombra punterà verso sinistra. E poi per accorciare un poco la lunghezza dell'ombra basta che adesso alzo la luce più in alto in modo che sia più perpendicolare ai due testi. Quindi agisco sulla posizione Y e la sposto più in alto. Io direi a questa altezza qui. Magari la sposto ancora un filo più a destra in modo che l'ombra punti di più a sinistra. Benissimo. Ora l'animazione della camera. Apro le sue proprietà e ora con il cursore mi metto nel momento finale dell'animazione della camera che in questo caso non è a 14 secondi ma è un poco prima. Facciamo più o meno a 10 secondi. Bene, in questo momento qua la posizione della camera e del punto di interesse vanno bene così come sono. Quindi accendo i due orologi di position e point of interest. Adesso prendo il cursore e torno al tempo zero. In questo momento voglio che la camera si trovi più in avanti sopra la testa dell'uomo e che inquadri bene lo sfondo. Quindi innanzitutto portiamo il punto di interesse là dove si trova lo sfondo. Quindi prendo il punto di interesse Z lo porto avanti finché non si trova alla stessa distanza dello sfondo. Ora avviciniamo la camera quasi alla stessa distanza dell'uomo e la spostiamo in alto finché la testa dell'uomo non esce dall'inquadratura in basso. Bene, adesso direi di far sì che la camera inquadri leggermente più in alto quindi spostiamo anche il punto di interesse un poco più su fino a questo punto in modo che anche la mongolfiera ritorni nell'inquadratura. Selezioniamo tutti quanti i keyframe e li ammorbidiamo con l'f9 e proviamo a fare una preview. Perfetto. Adesso aggiustiamo la messa a fuoco della camera. Vogliamo che all'inizio si a fuoco lo sfondo e alla fine l'uomo sopra la roccia. Bene, quindi prendiamo il cursore e lo portiamo al tempo zero. Attiviamo le camera options. Attiviamo il pulsante di depth of field. In questo momento portiamo la focus distance sullo sfondo quindi l'aumentiamo finché il piano della messa a fuoco questo interseca lo sfondo. Perfetto. A questo punto aumentiamo l'apertura in modo che gli altri livelli vadano fuori fuoco. In questo caso direi che un valore tra i 40 e i 50 possa essere sufficiente. Come vedete la mongolfiera sfuoca un pochino. Bene, ora accendiamo l'orologio di focus distance. Ci allineiamo con i keyframe finali della posizione della camera e in questo momento portiamo la focus distance indietro sull'uomo e quindi la porto fino qua. Ora l'uomo è a fuoco, il testo è leggermente sfocato e lo sfondo è molto sfocato. Benissimo e ammorbidiamo anche questi due keyframe. Facciamo ancora una preview. Benissimo, adesso assembliamo le tre fotografie nella composizione finale. Quindi andiamo in composition, new composition, la somma delle tre scene, 8, 16 e 14, fa 30. Quindi in duration impostiamo 30 secondi e nominiamo questa composizione esercizio 14 finale. Ok. Ora prendo nell'ordine monument valley, poi windsurf e lo allineo precisamente dove finisce la monument valley. Benissimo. E poi prendo grand canyon e lo allineo con la fine di windsurf. Ora qui a cavallo delle fotografie aggiungiamo questo elemento transizione luce. Quindi lo prendo, lo aggiungo nella timeline, mi metto proprio sul primo frame, sul passaggio dalla scena 1 alla scena 2, prendo transizione luce, la sposto in avanti e mi fermo sul frame di massima intensità luminosa che io direi a occhio è questo qui. Quindi come vedete queste macchie luminose sulla fotografia in sovraimpressione aumentano, raggiungono un massimo proprio durante il passaggio dalla fotografia 1 alla fotografia 2 e dopo si smorzano e torno a rivedere la foto senza macchie luminose. Benissimo, duplichiamo questo elemento e lo mettiamo anche a cavallo dalla seconda alla terza fotografia. Quindi lo seleziono CTRL D, mi sposto col cursore sul primo frame della terza fotografia, prendo la transizione luce e la sposto avanti finché non vedo il frame con la massima intensità luminosa che dovrebbe essere all'incirca questo. Bene, adesso prima di fare la preview finale vorrei dare un look finale diverso a tutte quante le fotografie. Se come me state usando la versione 2017 o avete la versione più nuova 2018, allora possiamo usare l'effetto di color correction Lumetri che ha al suo interno un elenco di look già pronti e quindi per applicarlo contemporaneamente a tutti quanti i livelli aggiungiamo prima un livello d'aggiustamento e poi l'effetto. Quindi andiamo in layer, new adjustment layer, fatto in modo che l'adjustment layer sia il primo livello nella timeline. Adesso andiamo nel menu effetti e come dicevo prima se state usando la versione 2017 o più nuova all'interno della famiglia color correction avete l'effetto Lumetri color. Questo effetto permette di correggere il contrasto e i colori di tutti i livelli ma noi semplicemente andiamo nella sezione creative e scegliamo da questo menu look il look che ci sembra più appropriato. Provate a scegliere uno che vi piace. Io per esempio ho usato questo qua SL Blue Eyes e se lo applico come vedete tutte quante le fotografie vengono virate verso una tonalità blu azzurra e se l'intensità di questi look vi sembra troppo forte potete abbassare l'intensità agendo sul parametro che c'è immediatamente dopo l'intensity e in questo caso particolare potremmo abbassarla un po' all'incirca tra i 70 e 80. Benissimo. Riportiamo l'impostazione a un monitor solo e facciamo partire la preview. Benissimo. Direi che ci siamo. Quindi se anche voi avete delle fotografie precedentemente scomposte per livelli in modo che i livelli in primo piano siano separati dai livelli in secondo piano è possibile animarle in questo modo distribuendo i vari livelli nello spazio 3D e animando la camera al loro interno. Bene, quindi l'esercizio di oggi finisce qua e ci vediamo alla prossima. Ciao!